Nella quarta di 17 giuli, noi riferiamo a una riunione che abbiamo lavorato anche nel gruppo del 4 giuli del 2023 con il segretario di Stato. Nella riunione abbiamo anche partecipato a parte del ministro di finanza, che è sempre partecipato, ha partecipato anche il vicepremier del ministro Ursula Arans e il ministro di assunto economico, il ministro Geoffrey Weaver. E noi abbiamo, nella quarta di 17 giuli, appone il proprio papel che con la proposizione con la nostra riunione del 4 giuli. Anche se è stato fatto che, se la nostra preoccupazione sta con noi per cambiare le le nostre mesi, che ora presta noce, presta noce placa, non interessa bo, e se nel futuro un copiare e un parlamento decidono non cambiare unilaterale, potrebbe essere interesse automaticamente e non interesse alto. E se è stato un stimolo per niente, per me, che la lei è zomare. A noi abbiamo elaborato la riunione, perché in questo modo abbiamo che queste sono state, che si è stato fatto insieme a noi naturalmente, che nella nostra riunione con la vostra, ci sono sempre un' consiglio di teatro, perché in questo modo abbiamo bisogno di visibilità, quindi abbiamo bisogno di 20 anni, 25 anni, quindi abbiamo bisogno di condizioni, se abbiamo bisogno di bisogno di, ne abbiamo bisogno di un eurobo senso, per l'accento di questo modo, allora ci sono le loro belle, sono le loro riunioni in questo modo, per la sua riunione è importante per il giorno del 7 giuli, bisogna elaborare un pochi più extensamente, arriva già, e poi abbiamo un contesto con questa ora di 2 via. E mi chiede a fare un rato di tre cartas, dia 31 di agosto di 2023, e la carta in cui noi abbiamo presentato un'opzione nuova, un'hoffleinenza a corte. E la carta qui ci mostrava, ma non è che la carta è cominciata, e la cosa che si chiama il giorno 29, 30 e 31 di agosto, e abbiamo una conversazione con un luogo arriva e una proposizione qui. Lamentablemente, non ha richiesto a riba a nivel AMTALAC, però, dopo sì, di una carta del 6 di settembre, il segretario di Stato ha indicato che è disposto per il nostro papio arriva. Quindi, non ha presentato una soluzione hibrida, e ora non è che. E' questa cosa, la cosa che ci sono arriva a mesa, è una tantissima proposizione che ci sono andati, e mi chiede a questa cosa che è una cosa che ha più tempo arriva a mesa, e l'altra ora ha richiesto a compilare. E sa che ora ha richiesto a AMTALAC da me, però non posturlo, perché entro i governanti, non sto parlando di ciò. Sì, ma passando a New York, mi ha riunito extensamente con il segretario di Stato, Van Huffelen, e adesso stiamo con il premier Rutta, junto con il segretario di Stato, Van Huffelen, e mi tengo vista con la riunione a Baye Hopibon. Claro, non è una riunione dura, non è forte, però sempre a base di respeto, se non sta di accordo con l'altro, arriva a un punto sempre, ho tenuto un tempo, e poi ho explicato il punto di vista, e adesso qui, mi messa vista, non c'è l'elogio per Aruba, perché economicamente Aruba sta recuperando, il turismo sta recuperando, le finanze, questo è unico paese, un reino che ha un surplus finanziario, e non solamente per anni qui, e otro anni, sino meriare, un squadro multi-annual, che mostra che Aruba sta bai che da ten, surplusa nel futuro, il Consello di Stato è un metodo positivo, che mi messa vista, non c'è l'elogio, e la reforma che sta ejecutando, il quadro di Alonso Paquato sta baiando buono.